Un convegno internazionale multidisciplinare che mette al centro Castel del Monte con delle indagini scientifiche inedite. Di che cosa si tratta? Sì, sono delle indagini che sono partite dal 2009 e che stanno andando avanti in seno al Dipartimento DICAR della Facoltà di Architettura Politecnico di Bari. In questo primo incontro presentiamo delle inedite indagini geologiche e geofisiche sulla collina di Castel del Monte. Sono delle indagini che non sono mai state fatte prima d'ora e che rivelano alcuni esiti molto interessanti come la presenza di una vasta zona al di sotto del castello ricca di acque. Oltre a questo abbiamo apporto di professori di varie discipline come latinisti e storici dell'arte che confermano l'importanza dell'acqua all'interno del Castel del Monte. Perché era importante questo elemento all'interno di Castel del Monte? Che cos'era Castel del Monte? La nostra ipotesi è che Castel del Monte sia stato progettato proprio per raccogliere e utilizzare il maggior quantitativo di acqua possibile proprio per l'uso dell'imperatore come centro termale. Questa è un'ipotesi che chiaramente sta andando avanti e stiamo cercando prove da tutte le discipline, non solo dal versante architettonico, per verificare appunto questa importante ipotesi. Castel del Monte è quindi un castello che serviva all'imperatore come vero e proprio centro termale. Come siete arrivati a questa ipotesi? Come avete sviluppato questo lavoro di indagine scientifica? Il lavoro è nato nel 2009, è nato da un'intuizione, un'intuizione quasi fulminea proprio su Castel del Monte, all'interno di una delle stanze del Castel del Monte, prendendo visione di alcuni dettagli architettonici legati all'acqua, conosciuti da noi perché comparati con altri edifici coevi in area islamica, propriamente degli Hammam. Ovviamente la forma è diversa ma le declinazioni sui dettagli architettonici ci hanno subito condotto ad una comparazione diretta tra questi edifici e Castel del Monte. Da questa intuizione iniziale poi la ricerca si è sviluppata, siamo alla terza edizione di volumi scientifici pubblicati e dall'intuizione si è strutturata una ricerca scientifica basata sull'indagine in campo, sia geologica sia geofisica. Abbiamo condotto delle indagini uniche, abbiamo condotto sulla geologia del territorio, quindi sul sottosuolo di Castel del Monte, delle indagini uniche con tomografia elettrica, georadar, abbiamo ritrovato delle faglie che comportano la presenza di falde superficiali, quindi per la conservazione dell'acqua, che veniva opportunamente captata dal sottosuolo tramite la costruzione di pozzi. I pozzi sono stati testimoniati dall'impresa di costruzione che abbiamo intervistato, che ha operato negli anni 60-70, che dichiara di aver scavato pozzi per una profondità di 60 metri, quindi dei pozzi per la captazione delle acque. Quindi la macchina termale di Federico II raccoglieva acque dalle cisterne pensili e anche dal sottosuolo. Le indagini sono diventate subito interdisciplinari, perché non avendo fonti dirette, ovviamente bisogna basarsi su tutta una serie di altre indagini multidisciplinari, quindi abbiamo ritradotto l'antico mandato, l'unico documento scritto da Federico II, quindi interpretando il termine famoso attractum come sistema per la captazione delle acque, per attrarre l'acqua dal sottosuolo. Abbiamo messo a sistema tutta una serie di indizi che ci hanno, come dire, confortato nella nostra indagine intuitiva iniziale. Diciamo la ricerca allo stato attuale conta quasi mille pagine di scritti, quindi abbiamo raccolto quante più indagini possibili e speriamo di poter costruire una visione virtuale del castello secondo la nostra ipotesi, quindi far vivere allo spettatore virtualmente quella che poteva essere l'originaria costruzione, l'architettura originaria di Castel del Monte. Qual è il fascino di Castel del Monte? Perché ancora tuttora suscita questa grande curiosità e quindi anche grandi studi scientifici, come abbiamo sentito di questa portata? Il fascino è che ci sono almeno, possiamo contare quasi 500 pubblicazioni, quindi da tutto il mondo, è quasi l'edificio più studiato al mondo, però nessuno riesce ancora a mettere un punto sulla sua funzione, sull'utilità, perché è stato costruito in quella forma, in quel luogo. Quindi il fascino per noi ricercatori è quello di indagare e dare delle risposte quanto più certe possibili. Noi ovviamente restiamo nell'alveo di ipotesi, le ipotesi possono essere veritiere se hanno prove a suffragio. Noi ne stiamo dando e ne stiamo costantemente portando e pensiamo che la nostra ipotesi sia assolutamente credibile, perché tutto ritorna come le tessere di un mosaico, quindi pensiamo fino a quando non ci convinceremo del contrario, pensiamo che l'ipotesi sia sulla strada giusta.